Termina, dopo due mesi, la lunga attesa per l'inizio del campionato con il Ciliverghe che sarà impegnato domani alle ore 15 sul campo del Fiorenzuola, squadra giunta al quarto posto nello scorso torneo. Domani iniziamo il nostro cammino in campionato e incontriamo il Fiorenzuola, una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene, ha partecipato ai play-off, quindi si è posizionata nella parte alta classifica, quest'anno ha allestito una squadra buonissima, ho visto qualche spezzone, qualche partita, è una squadra che gioca sempre, che gli piace il palleggio, è una squadra tecnica e quindi domani penso che sarà una partita aperta e anche a noi piace giocare, quindi penso che chi verrà a vedere la partita domani godrà di un bello spettacolo. I gialloblu esordiranno nel girone D uscendo per la prima volta nella loro storia dai confini del girone B, un esordio a cui la squadra giunge con buone sensazioni grazie al lavoro svolto in ritiro. Le sensazioni per domani e per questo avvio sono buone, veniamo da due mesi ormai di lavoro e ci mancano un po' le partite importanti, ne abbiamo fatte due in Coppa, domenica scorsa abbiamo fatto un buon test contro il Caravaggio, una squadra di serie D e di buon livello e siamo pronti, siamo pronti per affrontare la prima giornata di campionato, abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare al massimo e domani lo dimostreremo in campo. Contro il Caravaggio, nell'ultima amichevole, il tecnico Carobbio ha proposto un nuovo posizionamento in campo per Mauri, non più largo nel 4-2-4 ma vicino alla punta, una variante che potrebbe essere riproposta anche domani. In questi due mesi di lavoro abbiamo provato varie alternative, non ultima Mauri in attacco al posto che è sull'esterno perché penso che possa darci una mano lì in fase di realizzazione, in fase di conclusione e questa sicuramente è un'opportunità in più che si regala il nostro parco attaccanti, vediamo se domani già utilizzarla domani oppure la partita in corso però sono molto contento perché tutti i ragazzi che ho a disposizione hanno raggiunto un livello di forma importante e chiunque scenderà in campo domani farà il proprio meglio.